Una mattina mi son svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao Allora, ci vogliamo sbrigare là in fondo? Forza, prepariamolo sto campo! Su, veloci, veloci, veloci! Che cosa abbiamo imparato essendo queste divise? Cosa abbiamo imparato? Nulla! Ragazzi, noi siamo soldati d'Italia Abbiamo giurato di difendere la patria e i nostri fratelli Voi italiani avete tradito vostro duce, vostra patria Domani 180 nostri uomini saranno a Varese E il resto sua truppa avete compito di arrestare Ogni italiano fuggitivo e ostacolare ogni formazione di bande dei rivoltosi Come arrestare ogni italiano? Rivoltosi? Ma eccellenza, io sono italiano Librandi! Siamo fascisti! E da fascisti dobbiamo difendere il nostro duce al fianco degli alleati tedeschi E se necessario sopprimere i rivoltosi! Tutto chiaro? E li plani? Ai suoi ordini, comandante? Comandante ai suoi ordini! Io non sono comandante di nessuno Sono solo un soldato come voi Questo mettiamolo subito in chiaro Se veramente ci sono i ribelli dobbiamo trovarli ad ogni costo e avvisarli prima che arrivino i tedeschi Abbandante! Abbassiamolo tutti! Ehm! 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 ancora soldati. Sono compagni come noi. Stanno arrivando 200 tedeschi. Siamo venuti per unirsi a voi e informarvi. Chi va là? Ti manda Faina. Cerchiamo il colonnello Croce. Chi è il vostro capo? Il partigiano Mico. Sei tu il capo? Tenente, io non comando nessuno. Guido solo il camion scegliendo le strade. E parlo di più. Parli di più e quando parli ti ascoltano? Sembra di sì. Bene, partigiano Mico. Ora vuol dire che sei tu il capo. Non mi lasciamo mai. Mai. Non ti dimenticherò mai. Ma più forze, Caterina. Mi sembra che questo mondo sia diverso da quello che sognavo. Ed io non c'entro più niente. Nemmeno con gli alberi che ci sono per strada. Papà, ti prometto che tutti i tuoi sogni li realizzo io e anche tuoi, mamma. Amore, ma tu da quanto sei lì dietro? Da quello che sei. Il mio metto, io lo so che realizzerai tutti i sogni perché papà ti ha insegnato che devi crederti, eh. Gianfranco, ascoltami bene. Per fare il pane, questo, ci vuole tanta, tanta, tanta farina. Così. È così che bisogna fare. Avere dei punti di riferimento. Quanta luce c'è lassù. Le stelle, la luna. Chi va a scuola la sera come te lo fa perché devi dare una mano in casa. Può sembrare solo una cosa negativa, ma figlio mio, solo nel buio si vedono le stelle. Il teorema di Pitagora che non mi spiegherò. Perché sapere il teorema di Pitagora se prima non sapete cosa volete fare. Allora ragazzi, scrivete il vostro nome, cognome e la data di oggi, lunedì 2 luglio 1973. Solida l'età, è più forte di qualsiasi naturale. E andiamo, sì. E ora, truffiamoci nel mondo. Vai, ciao. E mi raccomando ragazzi, diamocela a fare. Aldo, ho un grande progetto in mente, ma ho bisogno di persone come te, amici, fidati, che vogliono raggiungere l'obiettivo che si sono prefissati. Io voglio volare. Vuoi fare il pilota? Beh, magari in aereo ti ci porterò, però io non voglio fare il pilota. Io voglio prendere tutte le mie piccole idee, metterle insieme e farle diventare grandi. Ho tanti progetti in mente io. Oh, sei un sognatore. Ma perché devi abbandonare? Te sei portato per gli studi. Magari quando torni tuoi ti fanno andare ancora. Ma dai, Michi, un anno di naia negli Alpini, per me è un casino. Puoi avere la tua formazione e se hai delle idee, me le vieni a dire. E se le idee sono buone, le realizziamo. Dottore, io voglio imparare da lei e sviluppare concretamente le mie idee commerciali. Sono pronto. Bravo ragazzo. Bravo. Già mi parli di idee commerciali e si vede che sei ben illuminato. Guardalo. Guarda che grinta. È la mente più geniale e innovativa di tutta l'azienda. E con questo abbiamo chiuso l'accordo con Pechino. Da oggi forniamo i componenti per l'illuminazione pubblica in Cina. Sì. Vedi, Noi abbiamo un'azienda che si espande su 30.000 metri quadrati. Eppure Io perdo ancora il mio sguardo guardando questo bottiglio. Perché qui, a poche centinaia di metri da noi, producono l'amaro più venduto al mondo. Con cui poi fabbricano i nostri famosi amaretti. E questo è stato possibile grazie a che cosa? Ma grazie all'intuito, al coraggio, alla follia se vogliamo. Degli uomini, dalle persone. Non devi mai dimenticarlo questo, Francesca. È un grande insegnamento. Certo, papà. Io non dimentico nulla, nulla, nulla di quello che mi insegni tu. Hai creato un impero. A me basta guardare te per meravigliarmi. Ogni giorno. Il momento in cui mi sono meravigliato di più nella mia vita è stato quando ho visto i tuoi occhioni belli per la prima volta. Papà! Ma non pensi che entrare in politica possa essere troppo pericoloso? Ma Gianfranco, sei riuscito in tutto. Hai vinto la tua scommessa. Ma perché la politica, fratello? Perché con l'impresa, che porti modernità e innovazione. Mai con la politica, che superi le differenze sociali. E noi dobbiamo guardare al futuro, al prossimo e creare un mondo migliore. È questo, caro Massimo. Lo puoi fare solo con la politica. Io sono una persona luminosa. La luce mi ha accompagnato per tutta la mia vita come gli amici. Ma oggi, più che mai, dobbiamo unire le forze e far tornare primari gli ideali liberali. Passiamo adesso all'elenco dei consiglieri comunali eletti. Gianfranco Librandi Lorenzo Arzi Le faccio un'ultima domanda, onorevole Librandi. Oggi l'Europa è una nuova frontiera? Ma l'Europa ormai è senza frontiere. E soprattutto bisogna guardare avanti. L'Africa, per esempio. La politica deve capire questo. Che è dalla povertà e dalla difficoltà che si traggono le energie migliori. E se non hai capito questo, non hai capito nulla dell'uomo, del suo coraggio, della sua determinazione. Che è capace di cadere e può rialzarsi più forte di prima. È come quando cadi dalla bicicletta. Devi avere il coraggio e la forza di rialzarti e dare un'ultima pedalata. Potrevi fare come tanti altri, aspettare la mamma o il papà. Ma tu non l'hai fatto. E credi che siano stati solo i prontoli del tuo stomaco a farti pedalare per tutta la tua testa Roma? Era la tua fantasia. La tua voglia di afferrarla e di cambiargli nome. Volevi chiamarla realtà? Ecco, quelle sono le idee. Non parcheggiare mai la tua bicicletta. La tua voce è una cosa. La tua fo spends la mia città. La tua voce è una cosa. La tua voce è una cosa. Grazie a tutti.